pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati ci avviciniamo alla pasqua ed ecco il segno del risuscitamento di lazzaro attraverso il quale gesù manifesta la sua potenza sulla morte e anticipa la gloria della sua risurrezione è un testo enorme meraviglioso noi ci soffermiamo soltanto su due espressioni di gesù e chiediamo al signore che si incidano nei nostri cuori per restituire vita ai nostri cuori partiamo dalla prima espressione gesù viene informato che lazzaro sta per morire stranamente gesù non si mette subito in cammino lascia che la malattia faccia il suo decorso e lazzaro muore ora è molto interessante la chiave di lettura che gesù dà quando lo avvisano appunto del malattia di lazzaro e gli dice questa malattia non è per la morte ma per la gloria di dio perché per essa il figlio di dio venga glorificato non posso sviscerarla in tutta la sua portata mi fermo solo sulla prima parte questa malattia non è per la morte ma per la gloria di dio miei cari pensiamo alle nostre malattie alle nostre infermità fisiche e anche morali alle nostre difficoltà nel cammino di conversione pensiamo anche alla sofferenza delle persone care che abbiamo accanto alle persone in questo momento soffrono alle prove che vivono quante volte questa sofferenza è acuita dal pensare che siano senza senso che siano soltanto una rovina una cosa inutile gesù dice questa malattia non è per la morte ma per la gloria di dio credere che c'è una gloria che dio vuol manifestare proprio in quella nostra difficoltà aprirci a un'opera che dio vuol compiere proprio nelle nostre infermità credere che questo travaglio questo stravolgimento improvviso questo percorso questa novità che mi è capitata questa malattia persino questa morte non sono l'ultima parola ma aprendoci a dio possono diventare un percorso verso la gloria per la nostra salvezza verrete a volte pensando a persone che soffrono anche fisicamente la portata di queste parole più manifesta e penso a tanti malati persone portatrici di handicap che hanno accolto gesù e vivono nella fede in lui negli occhi delle quali brilla una luce una serenità una sapienza una bellezza tangibile palpabile chiaramente questo non vuol dire che non soffrano o non abbiano momenti di fragilità ma vedi un'opera di dio in loro un miracolo in atto proprio nella loro malattia è vero altre volte più difficile penso persone con alcune malattie tipo l'alzheimer o malattie degenerative che stravolgono che letteralmente rovinano la vita ecco il rischio miei cari è pensare che non serva a niente quella vita questa malattia non è per la morte ma per la gloria di dio nostro signore facendosi uomo e avendo sofferto con amore la passione ha voluto in un certo modo unirsi a chi soffre ed elevare a categoria di redenzione l'umana sofferenza vuol dire che misteriosamente le nostre sofferenze possono far massa con le sue e giovare alla nostra e all'altrui salvezza e poterci rendere conto se non ora in pienezza in cielo come tutto ha concorso a un bene più grande attenti questo non significa non cercare di guarire non lottare spiritualmente per crescere non prendersi cura al meglio di chi soffre no ma imparare a guardare le cose con occhi più profondi credere che dio non spreca nulla che non butta via nulla si tratta dunque di credere di ancorarci al signore anche quando tutto sembra dirci il contrario anche quando sembra non valerne la pena anche quando sperimentiamo il silenzio di dio la nostra fede è credere nella luce nonostante in questo momento sia buio e intuire le luci dell'aurora nonostante ancora sia notte fonda spesso miei cari come è accaduto a lazaro dio non toglie i problemi permette che arriviamo fino in fondo ai nostri problemi eppure proprio lì egli porta avanti qualcosa di molto più grande come ha detto bene don fabio esistono soluzioni ed esistono risurrezioni le soluzioni sono umane arrivano in tempo evitano problemi le risurrezioni sono l'oltre della morte vedete altro evitare a lazaro la morte altro e spingerlo oltre la biologia in una esperienza di eternità altro è guarire da una malattia altro è incontrare dio in quella malattia ed entrare nella gloria altro è non affrontare un problema altro è crescere proprio grazie ad esso altro è risolvere subito una propria fragilità altro è tenersi stretti al signore proprio grazie ad essa imparando la pazienza la misericordia c'è un grave pericolo miei cari quello di non sfruttare questo momento quello di non saper cogliere l'occasione che nascondono le sofferenze e le difficoltà il rischio è quello di voler solo guarire ma non rinascere dall'alto dunque miei cari la prima frase che vorrei si incidesse nel nostro cuore è questa malattia e aggiungiamo questa prova questo travaglio questa lotta spirituale non è per la morte ma per la gloria di dio spostiamoci ora alla seconda frase gesù si mette in cammino e arriva a betania e incontra le sorelle di lazaro prima marta poi maria noi ci soffermiamo su marta che con una certa irruenza va incontro gesù e gli dice signore se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto ecco questa frase penso che possiamo farla nostra e capirla immediatamente ma se tu ci fossi stato se tu ci amassi veramente questa cosa non l'avresti permessa è uno sfogo a volte arrabbiato che comunque miei cari è sempre una ricerca di dio è sempre una ricerca di risposta permettetemi è sempre una preghiera ora nostro signore gesù si fa carico di questo sfogo e vuole aiutare marta ad andare più in profondità gesù risusciterà a questa vita lazaro ma soltanto come segno per farci capire che lui è venuto a risolvere il problema più profondo che la morte ascoltiamolo gesù dice tuo fratello risusciterà so che risusciterà nell'ultimo giorno risponde marta gesù invece le dice io sono la risurrezione la vita chi crede in me anche se muore vivrà chiunque vive crede in me non morrà in eterno credi questo soffermiamoci su questa frase miei cari che è una luce potente che apre a questa vittoria meravigliosa sulla morte che cristo opera in chi crede prima di tutto illumina la morte fisica io sono la risurrezione e la vita chi crede in me anche se muore vivrà vedete miei cari noi credenti non piangiamo come morti coloro che sono vivi in dio è chiaro piangiamo come gesù subito dopo farà piangendo per lazaro suo amico perché la morte non è qualcosa che ci appartiene infrange i legami ti fa sperimentare il vuoto che lascia la persona che è accanto e a me piace moltissimo l'espressione di una bambina morta santamente e un medico un giorno parlando con lei disse non hai paura no rispose non ho paura di morire so che vado incontro gesù ma tua mamma soffrirà lo so e questo mi dispiace ma io pregherò per lei ma le mancherai disse il medico e sentite la risposta della bambina la nostalgia e l'amore che rimane eccomi cari allora è chiaro che uno piange soffre passando attraverso il lutto ma quel pianto illuminato dalla vita perché io so che la persona che mi ha preceduto in dio che ha creduto in cristo è viva ecco perché santa monica diceva ai suoi figli non vi preoccupatevi dove metterete il mio corpo ricordatevi di me all'altare di dio in cristo ci incontriamo celebriamo la comunione con lui e tra di noi dunque miei cari noi non siamo senza speranza come coloro che non credono gesù ci ha detto chi crede in me anche se muore vivrà e sentite quanto sono belle le parole che san luigi gonzaga alla fine della sua vita a 21 anni scrisse alla madre o illustrissima signora guardati dall'offendere l'infinita bontà divina piangendo come morto chi vive al cospetto di dio e che con la sua intercessione può venire incontro alle tue necessità molto più che in questa vita la separazione non sarà lunga ci rivedremo in cielo e insieme uniti all'autore della nostra salvezza godremo gioie immortali lodandolo con tutta la capacità dell'anima e cantando senza fine le sue grazie egli ci toglie quello che prima ci aveva dato solo per riporlo in un luogo più sicuro e inviolabile e per ornarci di quei beni che noi stessi sceglieremmo e poi la seconda frase di gesù miei cari chi vive e crede in me non morirà in eterno abbiamo qui la vittoria su quella che è chiamata la seconda morte per dirla con le parole del libro dell'apocalisse che intende l'eterna separazione da dio ecco gesù dice chi vive e crede in me chi già in questa vita è unito a me sappia che non morirà in eterno la morte non è un salto nel vuoto ma un tuffo nell'eternità un balzo tra le braccia del padre che ci ama e ci aspetta a casa qui non si tratta solo di sapere delle cose ma di vivere una relazione profonda col signore gesù come ha detto bene padre cantala messa il grado di unione con lui sarà il grado della nostra sicurezza dinanzi alla morte francesco d'assisi che aveva realizzato perfettamente la sua unione con cristo vicino alla morte aggiunse al suo cantico delle creature una strofa laudato sì mi signore persona nostra morte corporale dalla quale nullo uomo vivente può scappare e quando gli annunciarono che era prossimo alla fine esclamò benvenga mia sorella morte la morte ha cambiato volto è diventata una sorella cari fratelli e sorelle qualcuno ha detto che il cristianesimo si fa strada con la paura della morte è un errore terribile il cristianesimo semmai viene a togliere la paura della morte cristo ci dice la lettera agli ebrei è venuto per liberare quelli che per paura della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita lasciamoci allora liberare da cristo lasciamoci dire lazzaro vieni fuori vieni fuori dalla tua tristezza dalla paura che il tuo travaglio non serva che le persone care non siano più lasciati slegare dalle tue bende dai tuoi attaccamenti disordinati da tutto ciò che pensi possa risolvere le tue angosce lasciati sciogliere dal calore dell'amore di colui che ha dato la vita per te perché tu possa vivere per sempre con lui e in lui che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti